Carla, Paolo, iniziamo un nuovo percorso, un nuovo modo di pensare al progetto della vostra casa. Spazi fisici, gli spazi mentali, gli spazi relazionali. C'è azione! È il problema di riuscire a capire che cosa c'è al di là della richiesta che normalmente perviene a un architetto. Una cosa per me molto importante è riuscire a realizzare casa con i materiali e con le finiture che noi ci aspettiamo di trovare. Allora, lei mi ha detto voglio il camionetto. Vorrei. Certo che fare casa non è solamente fare un bel progetto, ci sono tanti aspetti dietro, è molto complesso. Grazie. 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 Grazie.